Ciao Doro, tutto bene oggi? Vai, non c'è male, è tutto ok? Ascolta! Ho un mucchio di cosa da fare? Guarda! Guarda, guarda! Ho tutte le mie prove le sono segnate! Guardate i movimenti! Primo, oggi in tv iniziano le nuove avventure di Bebapink a seguire Jake e i pirati dell'isola che non c'è 2 torneo di Pokémon sai che mi piace Sì, ma da solo giochi? 3 partita con le imparate 4 allenamento di giro con i torneo 5 battaglia con i sport 6 una partitina con la rintendo di S giusto per la faccia no, perchè... 9 minuto iniziano le nuove sedi di super oh, adesso ti metto qua mamma ho fame mamma è quasi pronto mamma ho fame non posso, non posso, non sto facendo ma non